Scattare fotografie con un'esposizione sempre corretta può essere molto complicato per i neofiti e può presentare diverse sfide anche per i professionisti. Ecco che nel video di oggi vado a farvi vedere una modalità di esposizione che potrebbe mettere tutti d'accordo e rendere molto più semplice realizzare delle fotografie sempre perfette con l'esposizione esattamente come noi la vogliamo. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende, un ambito in cui la perfezione è richiesta in ogni singolo scatto. Ecco quindi che nel corso della mia vita ho dovuto imparare a esporre pressoché in tutti i modi presenti sulle mie macchine fotografiche e oggi sono qui a parlarvi di un modo di esposizione che è stato introdotto relativamente di recente tant'è che vi devo confessare io stesso non l'avevo praticamente mai usato e l'ho scoperto solamente grazie a un commento di uno di voi. A questo proposito vi ricordo di iscrivervi al canale perché come vedete qui non è un canale a senso unico ma è uno scambio, io vi racconto delle cose, voi mi raccontate delle cose e entrambi diventiamo più bravi nella nostra fotografia. Un like a questo video mi fa parimenti molto felice perché mi aiuta in un poco con l'algoritmo di YouTube. Ma andiamo a incominciare. La modalità di cui vi parlo oggi si chiama FV, ovvero Flexible Mode. In pratica si tratta di una modalità di esposizione cosiddetta flessibile. Che cosa fa questa modalità di esposizione? In pratica non è più come le modalità vecchie che erano a senso unico. Facciamo un ripassone per tutti quanti. Noi abbiamo la modalità di esposizione tutto automatico. Quindi sulla maggior parte dei modelli si chiama P, program. Su altri modelli potrà chiamarsi in altro modo ma sostanzialmente fa sempre la stessa cosa. È tutto automatico, la fotocamera si prende cura di qualsiasi aspetto riguardante l'esposizione della nostra foto. Poi abbiamo delle modalità intermedie che si chiamano priorità. Abbiamo priorità di tempi e priorità di diaframmi. Queste sono delle modalità che lavorano in semi-automatico. Nel senso che noi decidiamo uno dei parametri e la fotocamera imposta arbitrariamente gli altri parametri o l'altro parametro. Questo lo possiamo scegliere perché gli ISO sono un parametro che possiamo gestire a parte. Quindi con priorità di tempi noi impostiamo i tempi e il diaframma verrà selezionato dalla macchina. Con priorità di diaframmi al contrario noi impostiamo i diaframmi e i tempi verranno impostati dalla macchina. Durante tutto questo procedimento possiamo decidere se gli ISO devono essere fissi o automatici. Ecco che la modalità flessibile entra un pochino a gamba tesa perché è una modalità che mette tutto insieme. Ovvero nella modalità flessibile noi abbiamo la possibilità di impostare tutto su automatico. E in questo caso la macchina si prende cura di tutto proprio come se fossimo in modalità P. Possiamo gestire la compensazione dell'esposizione. Quindi nel momento in cui compensiamo l'esposizione la macchina sta sempre lavorando in automatico. Però noi stiamo dicendo alla macchina guarda che la scena è più scura di come tu la stai interpretando. Oppure più chiara. Quindi la macchina andrà a compensare. Questo può essere molto utile perché le modalità automatiche ogni tanto sbagliano. Perché hanno un algoritmo di interpretazione della scena che stiamo fotografando. Che però può appunto sbagliare. Quindi avere la possibilità di correggere questo errore è quello che facciamo con la compensazione dell'esposizione. La cosa interessante però è che in FlexiMode noi possiamo andare a intervenire sui parametri a differenza della modalità full automatic. Quindi noi possiamo andare a intervenire su un parametro, su due parametri o anche su tutti e tre. Quindi in pratica FV mette d'accordo tutte le modalità di esposizione precedentemente viste. Nel senso che noi, stando sempre in questa modalità, possiamo gestire separatamente ciascun parametro. Oppure lasciare in automatico ciascun parametro. Oppure gestire un solo parametro. Oppure gestirne due. Lasciando il terzo in automatico. Non solo, ma ogni step che facciamo, se lasciamo qualcosa in automatico, possiamo gestire la compensazione dell'esposizione sul parametro o sui parametri che rimangono in automatico. Quindi è una modalità sicuramente interessante. Una modalità che credo, eh. Credo, ma bacchettatemi se sbaglio, essere stata introdotta da Canon intorno al 2018. Quindi non è una cosa nuova. Sono io che ve ne sto parlando solo adesso perché personalmente non la uso tanto. Anzi, l'ho usata praticamente solo un paio di volte. Diciamo che la reputo una modalità un po' macchinosa da capire, però dall'altro lato è anche vero che può aiutare moltissimo i principianti, oltre che i professionisti in certe situazioni. Perché? Perché nel momento in cui la stiamo usando, noi abbiamo la macchina in automatico, ma vediamo che parametri sta utilizzando. Quindi per leggere una scena, noi impostiamo la macchina, vediamo una scena e vediamo la macchina in automatico che cosa sta facendo. Questo un minimo ci aiuta, perché se memorizziamo quei parametri, poi possiamo impostarli in manuale, possiamo impostarli in manuale in FV mode, quindi senza andare in manuale. Possiamo rimanere in questa modalità e impostare semplicemente i parametri che la macchina ci consigliava e poi andare a fare delle modifiche. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo a vedere sulla mia R6 come si comporta questa modalità. Molto bene, come potete vedere qui siamo, anzi non potete vedere, dovete fidarvi di me, qui siamo in modalità P, adesso andiamo a impostare modalità FV, quindi Flexible Mode. Come potete vedere, qui abbiamo la possibilità di vedere tutti quanti i parametri che in questo momento sono tutti impostati su automatico. Come spero che riusciate a intravedere, c'è una piccola ghiera arancione che sta posizionata sulla compensazione dell'esposizione e questo simbolino è quello della ghiera dei tempi. Quindi nel momento in cui io vado a modificare la compensazione dell'esposizione, vedete che la mia scena cambia. Lo potete vedere sia dall'esposizione a monitor, sia dall'istogramma, che ovviamente si muove per seguire quello che io sto facendo, quindi verso gli scuri o verso i chiari. Come detto, questa è una modalità flessibile che ci permette di lavorare completamente in automatico ed è quello che stiamo vedendo in questo momento. In questo momento la macchina si sta prendendo cura di tutti gli aspetti della nostra esposizione. Infatti, come potete vedere, abbiamo TV Auto, AV Auto e ISO Auto. Noi però possiamo andare con questa rotella e questo potrebbe variare a seconda del modello perché non tutte le macchine ce l'hanno, questa rotella. Però insomma, con una delle varie ghiere o con il comando touch sul display possiamo andare a selezionare un altro parametro e possiamo andare a modificarlo. Ora, che cosa succede se noi modifichiamo un parametro e lo lasciamo impostato in quella maniera? Succede che gli altri due parametri si regoleranno di conseguenza. Quindi vedete che l'esposizione non è cambiata e lo vedete nuovamente sia dalla scena che dall'istogramma. Io posso anche andare a modificare un altro parametro. In questo caso vedete che la luce chiaramente è troppa. Però io posso andare a impostare un valore tale per cui l'illuminazione sia corretta. A questo punto vedete che di nuovo l'esposizione non cambia perché io a questo punto con la rotella posso andare a posizionarmi su questo parametro, quindi sui tempi, e posso andare a cambiare solamente i tempi. Vedete che non cambia niente fino a qui. Perché non cambia niente fin qui? Perché fino a qui stiamo compensando col diaframma. Cioè la macchina in automatico sta compensando col diaframma. Da qui in poi, vedete, probabilmente siamo arrivati al diaframma minimo e quindi la scena comincia a cambiare. Qui di nuovo, vedete, qui siamo in un range dove la scena non cambia, non cambia, non cambia perché stiamo compensando col diaframma. Noi possiamo anche andare a impostare il diaframma. Quindi vedete che siamo su auto. Andiamo a impostare un F8 e adesso con i tempi andiamo nuovamente a impostare un F10. No, l'F10 non mi piace. Andiamo a impostare un F50 e a questo punto vedete che possiamo andare a compensare con gli altri due valori. In questo caso stiamo lavorando praticamente in modalità manuale perché stiamo gestendo tutto manualmente. Nel momento in cui volessimo mettere un parametro in automatico basta che selezioniamo il parametro in questo caso potrebbero essere gli ISO andiamo a premere il bottone del cestino quello per buttare via le nostre fotografie o le nostre risorse. Andiamo a premere il pulsante del cestino e vedete che il parametro che avevamo selezionato torna a essere in automatico. Se ci spostiamo su un altro parametro e premiamo cestino anche quello torna in automatico e quindi in questo caso adesso siamo in priorità di diaframmi con gli ISO automatici. Se premiamo cestino anche su AV vedete che torna tutto in automatico e a questo punto possiamo tornare con la rotella sulla compensazione dell'esposizione per gestire quella. Una cosa ulteriore da dire è che se noi abbiamo impostato i nostri parametri manualmente facciamo finta che ne abbiamo impostati due o anche tutti non ha molta importanza. In questo momento io ho impostato questi due parametri ma impostiamoli pure anche tutti e tre. Ok io li ho impostati tutti e tre diciamo che non sono contento non mi piacciono voglio che la macchina ci pensi da sola. Io potrei andare parametro per parametro selezionandoli uno per uno a premere il bottone del cestino oppure posso anche tenere premuto il bottone del cestino per un secondo e mi azzera tutto mi riporta tutto in full automatico e quindi di nuovo posso andare a gestire solo la mia compensazione dell'esposizione. È una modalità come avete potuto vedere che può essere comoda per molti versi sicuramente è una cosa che bisogna padroneggiare su cui bisogna prendere un po' la mano perché non è scontatissima ci sono un po' di cose che bisogna memorizzare bisogna stare attenti e tenere d'occhio i parametri perché è un attimo distrarsi in questa modalità e quindi le foto magari vengono sempre bene perché abbiamo compensato o perché abbiamo uno dei parametri che rimane in automatico però è un attimo che uno dei parametri rimane impostato nella maniera non corretta quindi le nostre fotografie potrebbero uscire con un'esposizione che è corretta ma con un parametro che non è il migliore che potevamo impostare per quella determinata scena questo ovviamente sarebbe un peccato ma ovviamente come tutte le altre modalità presenti sulla nostra macchina questa modalità FV è solamente uno strumento e quindi sta a noi trovare il modo migliore per usarla bene amici come avete potuto vedere modalità secondo me molto carina è bello avere la possibilità di sceglierle queste cose non è detto che le dobbiamo usare per forza e io stesso vi dico io molte volte questa modalità non la uso perché mi introduce più variabili e siccome non sono abituato mi rende più lento a prendere decisioni io sono abituato da tempo in memore che se voglio fare quella roba lì metto priorità di tempi e poi decido se tenere gli ISO automatici o in manuale e nella mia testa è istantaneo fare così se devo pensare di andare in modalità flessibile il mio cervello deve fare uno step in più devo dire devo andare in una modalità che non è quella che usavo prima e poi i parametri si gestiscono dal basso invece che come prima è diverso e quindi diciamo che io faccio più fatica ma è solo una questione di abitudine se ci abituiamo a utilizzare FV mode in realtà è più facile perché senza più dover usare la ghiera dei modi di esposizione abbiamo già tutto a portata di click possiamo gestire tutti i parametri oppure possiamo lasciarli in automatico ed è molto rapido lo switch tra una modalità e l'altra l'unica cosa che non mi piace l'unica cosa veramente che mi fa un po' storcere il naso è che nel momento in cui siamo in automatico e vogliamo passare alla modalità manuale su uno dei parametri o su più parametri partendo da auto partiamo dal fondo della scala quindi magari ci si mette un po' ad arrivare al punto desiderato questa è l'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso perché per il resto è una modalità secondo me interessante e io vi incoraggio a sperimentarla perché non si sa mai che possiate avere delle belle soddisfazioni e parlo sia di principianti che di professionisti perché per un principiante è una modalità che rende molto semplice lavorare è automatica e rende molto semplice fare delle correzioni perché nel momento in cui ok siamo in automatico la scena è sbagliata è una mirrorless lo vediamo a display che è sbagliata possiamo compensare l'esposizione ma leggiamo i parametri e se un parametro è palesemente sbagliato se per dire stiamo scattando con un 500 mm e mi da un sessantesimo di secondo è sbagliato possiamo intervenire solo su quel parametro e gli altri compenseranno automaticamente quindi è molto interessante da questo punto di vista a questo punto fatemi sapere come sempre cosa ne pensate giù nei commenti qualcuno di voi la usa c'è qualcosa che ho dimenticato qualche trucchetto che volete insegnarci ne parleremo poi nei commenti vi consiglio di iscrivervi perché poi io rispondo con degli shorts verticali se vi iscrivete adesso poi non andate a perdervi le risposte amici è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video